Si allarga l'inchiesta della Procura di Prato sulle presunte violenze sessuali, anche di gruppo che due fratelli all'epoca minorenni avrebbero subito all'interno della comunità e discepoli dell'Annunciazione di Prato, fondata da Don Giglio Giglioli, uno dei nove indagati, e sciolta a dicembre dal Vaticano. Incrociando le informazioni emerse dal materiale sequestrato dalla squadra mobile con quanto raccontato dai ragazzi e dagli indagati che finora sono stati interrogati, è possibile individuare altri tre uomini che avrebbero partecipato all'episodio della presunta violenza sessuale di gruppo ai danni dei due minorenni. Il numero dei religiosi iscritti nel registro degli indagati tra sacerdoti, frati ed ex religiosi tornati alla vita laica salirebbe quindi a dodici. Si tratta di persone che finora non erano state individuate ma che ora hanno un nome e un cognome, ma potrebbe allargarsi anche il fronte dei presunti abusati. La Procura non pensa tanto agli episodi indicati dai due fratelli in cui sembra accertato che fossero gli unici minori presenti, quanto ad altri giovani che frequentavano la comunità. Per questo i sostituti procuratori, a cui è affidata l'inchiesta Laura Canova e Valentina Cosci, fanno appello affinché chi ritiene di aver subito violenza si faccia avanti e bussi alla loro porta senza paura. Un altro aspetto da chiarire in questa triste vicenda è l'attendibilità dell'approccio MDR, desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari che lo psicologo avrebbe adottato con il fratello minore per far emergere quel trauma latente. Racconti che poi la madre dei ragazzi ha riportato ai servizi sociali che seguono la famiglia che a loro volta hanno inviato una segnalazione in procura da cui poi è nata l'inchiesta. Successivamente si è aggiunta la documentazione raccolta dalla diocesi di Prato nel procedimento canonico aperto a settembre dopo che a giugno il fratello maggiore si è rivolto all'allora vescovo Franco Agostinelli per denunciare quanto gli era accaduto quando aveva 15 anni e frequentava l'associazione religiosa insieme al fratello dei dieci. Un terzo fratello, più grande di entrambi, avrebbe detto di essere a conoscenza di tutto ma di non aver mai subito violenze. È in corso l'individuazione di nuovi testimoni da parte degli inquirenti. Nei prossimi giorni saranno sentiti gli ultimi attuali indagati. La sfilata dei religiosi in procura è cominciata giovedì pomeriggio con Don Giglio Gigliotti che attualmente vive ad Aulla con altri quattro adepti indagati, anche loro preti.